Il ministro Spadafora scrive una lettera al presidente della UEFA, Alexander Cefrin, dicendo che non è il caso di fare la finale Champions a Istanbul. Queste le sue parole. Chiedo di valutare se non sia inopportuno mantenere ad Istanbul la finale della UEFA Champions League in programma per il prossimo 30 maggio. L'appello appunto è il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, che rende noto pubblicando sul suo profilo Facebook la lettera che lui ha mandato proprio alla UEFA. La decisione, dice Spadafora, è maturata a seguito dei gravissimi atti contro la popolazione civile kurda avvenute negli ultimi giorni. E aggiunge, sappiamo bene che la drammaticità di quanto sta avvenendo in Siria non si risolverà con questo atto, ma siamo sicuri, ma siamo tutti consapevoli dell'importanza politica, mediatica, economica e culturale che riveste uno degli appuntamenti sportivi più importanti a livello mondiale. E a concluso, mi auguro che il calcio europeo nella sua massima espressione possa, per il suo tramite, prendere la scelta più coraggiosa e dimostrare ancora una volta che lo sport è uno strumento di pace. Io sono pienamente, totalmente d'accordo col ministro, cancellare la finale a Istanbul e farla da un'altra parte. Con stati aggressori, stati assassini che uccidono altre popolazioni, bisogna fare così. E non solo questo. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci. Grazie a tutti.